Ho il cuore gonfio di buoni sentimenti. Ho avuto l'impressione, correggimi se sbaglio, ma ho proprio avuto l'impressione che sia uscita Marina. Sono molto contenta che Cristina sia rimasta qui, perché fra me e Cristina c'è un feeling molto speciale. Io voglio molto bene a Cristina, voglio veramente bene a Cristina col cuore e se fosse uscita Cristina per me sarebbe stata la stessa cosa. Comunque ho il cuore gonfio di sentimenti per gli abitanti della casa. Per me sono come dei fratelli e in particolare voglio bene a Rocco, anche se mi fa schifo. E comunque anche se sono piena d'amore per tutti i componenti della casa e voglio molto bene a tutti col cuore, sono rimasta un attimino delusa dai maschietti della casa. Perché sono dei cretini. E sento che io non capisco come mai ancora nessuno ci abbia provato con me. Però è una cosa che non capisco, perché insomma ancora nessuno che mi si vuole fare. Eppure io sono andata in giro in casa anche con il reggiseno, con le mutande, mi sono fatta vedere anche abbastanza nuda, ho ballato anche in modo. Se ti ho anche detto che mi piaceva molto essere toccata nell'interno a coscia, e questa cosa non è stata recepita da nessuno. È veramente una cosa che non capisco, sono dei cretini, veramente sono dei cretini, veramente. Comunque ho il cuore veramente gonfio di buoni sentimenti.